Le più moderne tecnologie del nostro laboratorio, una selezione delle migliori materie prime e il lavoro di una squadra di ricercatori hanno reso possibile la formulazione dei nuovi sigillanti FASA-FIL. La forza dei colori prende forma e si evolve in soluzioni che armonizzano la bellezza di ogni ambiente con stile e precisione tecnica. Ampiezza della gamma, elevata stabilità cromatica, eccellente lavorabilità. Nuovi sigillanti FASA-FIL. L'ultimo tocco per un pavimento perfetto. FASA-BORTOLO. In linea con il tuo stile.